Vengono divari tra nord e sud, il rapporto annuale del CNEL delinea un quadro in chiaroscuro del paese. Servizi sanità e trasporti, c'è ancora molto da fare. Giovanni Nicoletti. Con quasi 300.000 nuovi posti messi a bando, la pubblica amministrazione si riorganizza, semplificando e formando e cerca di dare servizi migliori in tempi più brevi. Ma restano le criticità con la spesa pubblica in sanità, che anche se in aumento, resta tra le più basse in Europa. I cittadini pagano di tasca propria per avere efficienza e affrontare lunghe liste d'attesa. Sempre di più rinunciano a curarsi, quasi 5 milioni. Lacune anche nei trasporti, nell'istruzione e nel sostegno alla povertà. Quella assoluta tra le famiglie è salita all'8,5%. Ancora rilevanti poi le differenze tra nord e sud, dalla gestione dei rifiuti alla viabilità. Un quadro dei servizi pubblici in chiaroscuro, quello presentato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Non si può migliorare, non si può cambiare se prima non si conosce. Ecco, noi vogliamo conoscere, fare trasparenza, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. La pubblica amministrazione si irrobustisce dopo anni di blocco del turnover, dice il ministro Zandrillo, e riparte la contrattazione. Stiamo lavorando per chiudere quelli della tornata 22-24 e abbiamo già postate le risorse per la tornata 25-27. Una continuità contrattuale che non si verificava da vent'anni a questa parte.